Dopo i riti della Pasqua Cattolica di Stilo, la Vallata Stilaro è entrata nella settimana Santa Ortodossa per la presenza dei monasteri di Bivongia e Stilo, dove le comunità dei monici romeni e ucraini seguono il calendario giuliano. Prima di parlare della Pasqua Ortodossa, però, doverosamente, dobbiamo seguire qualche immagine dei riti che si sono svolti a Stilo la settimana passata, che sono stati molto seguiti, visto che sono ripresi dopo due anni di stop a causa della pandemia. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!